Musica Ben ritrovati amici, benvenuti in questo nuovo video di due calciatori per lettera Oggi parleremo della lettera B Intanto vi ricordo di lasciare un like e iscrivetevi al canale Abbiamo deciso di cominciare con Marco Ballotta È un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano Di ruolo portiere o attaccante Presidente, direttore generale e portiere del Castelvetro Nella sua carriera ha vinto uno scudetto tra il Coppa Italia e una Supercoppa Italiana Oltre ad aver conquistato due promozioni in Serie A e altrettante in Serie B A livello internazionale ha vinto due Coppe delle Coppe e due Supercoppe Europee L'altro calciatore con la lettera B è Dino Baggio È un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Nel 1994 è stato vice campione del mondo con la Nazionale Italiana È detentore di due record relativi alla Coppa UEFA È il calciatore italiano ad aver conquistato il trofeo continentale il maggior numero di volte Pari a tre Nonché il calciatore con più gol realizzati nella finalissima della competizione Cinque reti distribuite in due finali di andata e ritorno Il Maglia Azzurra conta 60 presenze con 7 reti E ha preso parte a due mondiali 1994 e 1998 E anche un europeo nel 1996 Bene ragazzi loro erano Marco Ballotta e Dino Baggio per due calciatori per lettera B Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale Noi ci risentiamo alla prossima con due calciatori per lettera C Ciao